oggi voglio mostrarti come faccio una analisi html attraverso chrome per vedere come è strutturato e ottimizzato un sito web io sono Alberto Santoli consulente e formatore di marketing faremo diciamo un piccolo una piccola analisi massimo 10 minuti e procediamo per cui andiamo al desktop avvio chrome anche se sono logato non vi sono delle interferenze nelle analisi posso anche andare diciamo in modalità incognita ma per mia comodità vado ad analizzare un mio sito sempre il mio blog strumenti per comunicare poi analizzare qualsiasi tipo di sito andando a fare una visualizzazione html per cui in chrome vai a premere sulla tastiera fisica i tasti ctrl se ti trovi in windows oppure mela se ti trovi in mac per cui ci appare l'html notiamo subito ad esempio gli hdfrang per cui quale lingua è stato strutturato il sito in questo caso it it per cui in lingua italiana per la nazione italiana abbiamo poi altre diciamo altre informazioni che si trovano nella parte del in questo caso del pre-eater poi è leader con per cui nella pretestata c'è una parte piatta della testata o i pulsanti social in questo mio blog poi o nel leader per cui una testata il diciamo il titolo del sito con il motto e poi ho il menu con diciamo con le sottovoci di menu il pulsantino per il moto ricerca che si ripete anche qui perché ho voluto diciamo siccome nella visualizzazione mobile la barra laterale per cui la sidebar va a finire sotto ho voluto lasciare un doppio diciamo un doppio una doppia possibilità di ricerca il pulsantino che appare anche nella versione mobile appare sopra mentre la sidebar appare sotto ma questo è la mia scelta per cui nell'html io vado a vedere un po come è strutturata questa pagina che sto analizzando io sto analizzando l'home page posso diciamo andare su qualsiasi pagina di un sito e andare a visualizzare l'html subito noto che vi sono dei riferimenti a iubenda che io utilizzo per le mie cookie e per la sipodisi e diciamo ho qui iub oppure proprio iubenda diciamo sono dei tutti i richiami a iubenda poi diciamo ancora dedichiamo ai cookie viviamo alla fine dei cookie ho l'apertura di host seo come plugin seo per cui la famiglia dei font ancora ad esempio vado a trovarmi se non sono diciamo tanto agevole nella visualizzazione in questo modo posso andare ad esempio se già so cosa cercare nella nella trova ad esempio se voglio sapere subito il tema ad esempio di il di questo sito se anche per capire come è strutturato il sito se utilizza ad esempio un cms come wordpress posso scrivere team e o vp content che è wordpress-content che è la parte di contenuto del di wordpress nella struttura di wordpress teams color mark color mark è il mio tema che sto utilizzando nel mio blog per cui già andando a scrivere team 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 se diciamo posso trovare subito che tema sta utilizzando tema in questo caso di wordpress sta utilizzando il sito qui anche noto che sto utilizzando il tema child per cui ho creato un colon mag in questo caso trattino child un diciamo un tema figlio rispetto al tema madre che mi consente di fare tutte le modifiche che voglio senza perdere le modifiche quando vado poi aggiornare il tema madre invece di team vado a scrivere plugins per cercate i plugin che utilizzo diciamo quando scrivo plugins mi può trovare sia plugin che utilizzo ma anche la parola plugin all'interno sia del diciamo del 2l che all'interno del contenuto presente nell'html per cui anche all'interno diciamo dei titoli eccetera per cui vado a vedere un po di fare una un filtro e vedo che come plugin seo che io sto seo qui altri plugin che mi trova sono quelli relativi ad esempio a un plugin che ho per integrare alcune funzioni di udemy per quanto riguarda il richiamo di schede prodotto che sono diciamo le schede dei miei corsi su udemy un altro plugin ad esempio di 20 per la condivisione nei social dei contenuti e così via per qui ad esempio qui posso andarmi a trovare anche oggi due punti che sono gli open graph che sono riferimenti alla condivisione dei contenuti dal sito a facebook per cui una presentazione corretta dei contenuti dal sito a facebook per cui open graph oggi due punti locale sono diciamo i dati strutturati di facebook oggi type contenuto website oppure oggi title eccetera che mi consentono di andare a fare una condivisione la condivisione corretta del contenuto che è su che voglio condividere in questo caso il sito viene per cui condiviso il titolo del sito l'immagine associata il la descrizione e eventualmente anche altre informazioni qui oggi il locale oggi type per cui oggi title ancora la descrizione per cui diciamo il testo associato in questo caso alla home page il tipo di diciamo di contenuto l'url eccetera per cui posso andare già a farmi una ricerca vediamo anche se l'url eccetera per cui è diciamo gtag oppure vedo di non utilizzare il di fare uno dei flash vedo se anche qui tolgo la di block che una bloccare di blog diciamo questo qui di ublock va a bloccare molte cose tra cui anche le integrazioni interne per cui il google tag con il pixel eccetera invece diciamo qui me lo richiamo un po' per cui ho il google tag manager e con il google tag manager poi mi va a dichiamare un po' tutti gli altri servizi per cui diciamo il mio codice gtm io utilizzo il google tag manager all'interno del tag manager ho inserito i tag dell'ativa pixel google analytics yandex matica e altri servizi che vado a attivare o disattivare come voglio per cui questa è una prima diciamo analisi invece di che è un po' più per chi è un po' più avanzato perché già conosce diciamo cosa cercare invece possiamo fare così andiamo in altri strumenti estensioni e andiamo a scaricarci l'estensione che si chiama metaseo inspector questa qui per cui andiamo in estensioni apri chrome web store cerchiamo metaseo e questo qui metaseo inspector che è un scaricato da moltissimi utenti anche recensioni positive eccetera quando siamo all'interno di un sito una volta che diciamo l'abbiamo scaricato attivato se ce lo troviamo nell'elenco dei delle estensioni possiamo mettere un in evidenza per cui abbiamo diciamo metaseo mettiamo da grigio a blu e lo mettiamo in evidenza tra quelli che vogliamo utilizzare per primi rispetto alle altre estensioni chrome per cui abbiamo delle macro sezioni come la sezione dei social con gli open graph abbiamo le sezioni in comune per cui il tipo di diciamo di sito in html l'html lang i robots la description il titolo del sito nonché i dati strutturati la tipologia dei dati strutturati diciamo anche mobile per cui altre informazioni relativi mobile mobile per cui le hx gli encode e tanto altro cerco di nel prossimo tutorial di mostrarti per bene questo questa estensione grazie ai prossimi tutorial Quindi Grazie a tutti Youtube Grazie.